Vai, vai, Mico, vai, vai, che è tardi! Non cammino, non beca non cammino! Ampiamo il programma! Non c'è pure il porto del porto! A posto siamo! Buongiorno! Buongiorno! Con questa bella macchina, dove pensate che siamo? A Monza? Ma qua la Monza, non siamo a Gioia Tauro! A Monza? A Gioia Tauro siamo qua! Dove è stato andato? Stiamo andando a Lomezia! In televisione! In televisione? Sì! Ma cosa fare, scusate? Cosa facciamo? Calabria TV, Angelo Mauro e Mico Purci, ma non ci conoscete? Con quella faccia! Eh, monta la cagliata! E questa è la faccia nostra! Ah, quindi, gratta gratta e fumo! Sì, lui gratta e io fumo! Uno gratta e l'altro fumo! Possiamo andare? Noi... Possiamo andare, però, vi raccomando, l'unica cosa è che dovete stare un pochino calmi con quella macchina, non superare neanche il limite di velocità! E andate pianissimo, perché c'è un raduno di macchine di 500 e quindi dovete stare molto, molto attenti! Sì, scusate! E questo è più forte, questo è 600! Potremmo passare allora! Si è abbattito due giorni fa! Andate piano piano! Però ricordatevi, Calabria TV, ogni giovedì sera alle 21.30! Angelo Mauro e Micubucci a casa vostra! Con la replica, eh? La replica, la domenica! E se la veda anche lei, mi raccomando! Maresciallo, a disposizione! Vediamo che lo prendo anche il canale qua! Mi raccomando! Tante cose! Tante cose! Grazie, grazie! Sempre dritto! Vai, Mico! Sì, sì! Vai, Mico, vai, vai! Vai, Mico, vai! Bunga, 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 è bello assai! Quando lo fai, quando lo fai! Mi lo consiglia puro cavallere! E come? E forse pure ieri!